Ai minuti contati, il pirata della strada che a volante della propria auto ha travolto tre uomini, tutti i rumeni, mentre camminavano al buio sul ciglio della strada lungo la provinciare 31, incontrata Macconi nei pressi della rotatoria. Il guidatore del veicolo, invece di fermarsi a prestare soccorso dopo aver travolto i tre pedoni, centrandone uno in pieno e non concedendogli di conseguenza scampo, ha sgommato via senza neanche chiamare i soccorsi. L'uomo morto sul colpo, il 33enne Aurelian Rata, mentre gli altri due connazionali, pure loro feriti in maniera grave, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale Guzzardi di Vittoria, dove sono tuttora ricoverati. Uno di loro è in prognosi riservata, ma entrambi per fortuna non sono in pericolo di vita. Preziose, si sarebbero rivelate le loro testimonianze, rese e carabinieri per risalire al pirata della strada, la cui identificazione è ormai questione di ore. Per il guidatore del mezzo si profilano le ipotesi di reato di omicidio colposo con omissione di soccorso e lesioni personali gravissime. Stando alla prima ricostruzione della dinamica dell'incidente mortale, verificatosi nella tarda nottata tra sabato e domenica, l'auto, sopraggiunta a velocità sostenuta, avrebbe travolto i tre rumeni che camminavano in fila indiana sul ciglio della strada per tornare a casa. Il guidatore, a causa della scarsa visibilità e per via della velocità elevata, avrebbe visto all'ultimo secondo il tazzetto senza poter far nulla per evitare il fatale impatto costato la vita al rumeno 33enne. Sull'asfalto, di fatti, non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di frenata. Il corpo del rumeno, dopo l'ispezione cadaverica che ha confermato il decesso causato dal grave politrauma alla testa, è stato trasportato nella camera mortuaria del cimitero di Acate a disposizione del sostituto procuratore di turno del Tribunale di Ragusa, Gaetano Scollo. Grazie a tutti.